Nel comune di Garbagna Novarese, a pochi chilometri da Novara, Arte Casa propone in vendita questa villa libera su quattro lati, posizionata su un lotto di terreno di circa 500 metri quadri. L'immobile è stato edificato nei primi anni 70 ed è disposto su due livelli fuoriterro. Al piano terreno troviamo un'autorimessa e locali Cantina Taverna, tutti illuminati da luce naturale, per un totale di 110 metri quadri, mentre al primo piano l'abitazione di 115 metri quadri è composta da ingresso, soggiorno, cucina abitabile con annesso balcone, tre camere da letto e banni. L'immobile è rimasto quasi totalmente alle finiture originali, molto ben tenuto e funzionante. Il giardino ha una superficie di 400 metri quadri circa e si trova quasi totalmente sul retro dell'abitazione, caratteristiche che lo rendono molto riservato e ben gestibile negli spazi, tanto da poter comodamente ospitare una piscina. Per tutte le informazioni lo staff Arte Casa Immobiliare è sempre a vostra disposizione. Arte Casa, l'arte di vendere case.